Il caldo non tutti lo sopportano e talvolta dalla testa. A testimoniarlo anche le forze dell'ordine che nei mesi estivi vedono aumentare nel loro bilanci il numero degli interventi atti a sedare proprio liti, talvolta anche violente, che spesso per futili motivi o per relazioni poco chiare scoppiano tra vicini di casa o tra moglie e marito. Un fenomeno che, lo abbiamo visto anche quest'estate, sta dilagando sempre più tra la cittadinanza della Piana Lucchese e che vede salire nei mesi estivi anche fino a dieci al giorno, circa sette in più rispetto ai mesi freddi, gli interventi che vengono effettuati dalle autorità militari per riportare la calma tra i contendenti. E la calma i militari talvolta devono riportarla anche tra coniugi, specie quando c'è chi, poco furbo, fa le corna quasi alla luce del sole. Nella giornata di giovedì, infatti, i militari, a sirene spiegate, hanno raggiunto un'abitazione lucchese, dopo che la proprietaria, vedendo un'auto all'interno del proprio garage, che non era né sua né del marito, aveva pensato che fosse di qualche malintenzionato che si era introdotto nella sua abitazione. Giunti sul posto e i carabinieri in casa non hanno però sorpreso il ladro con le mani nel sacco, ma bensì l'amante del marito. Un reato e meno per la criminalità lucchese, ma una bella batosta per la signora.